Ragazzuoli, buongiorno, un nuovo video richiesto da voi McBank, eating sound, fate, chiamatelo come volete Di questo sugo qui, comprato, biffi, che sugo? Sugo con cacio e pepe, con pecorino romano, 150 grammi Non l'ho mai provata la pasta a cacio e pepe, quindi la mangiamo insieme L'ho appena fatta, fumante, vi farò una foto se volete Ma sicuramente l'avete già mangiata tutti, la prima volta che la mangio io Quindi assaggiamo com'è, in diretta, aiuto Sa di gorgonzola, è possibile? Allora, gli ingredienti sono Latte di pecora, pecorino romano, caglio di agnello Olio di semi di girasole, panna, latte, fermenti lattici Siero di latte in polvere, amido di mais, amido modificato di mais, pepe nero Correttore di acidità, acido lattico senza glutine Non c'è nessun tipo di formaggio a parte il pecorino romano Che non è che mi faccia impazzire il pecorino, ma vabbè Però si sente tantissimo il pecorino, o comunque sia il profumo che anche il gusto Sa tantissimo di formaggio E poco di pepe Non è per niente piccante, il pepe a me già da un po' fastidio in generale Di solito Non è male, non è male Poteva sapere un po' meno il pecorino E un pochino più di pepe, ma non è male, non è cattiva Sento dolore di gorgonzola, ma non c'è con gli ingredienti, quindi non so perché Lo sento io Ma io dico sempre no, sempre no Però ogni tanto dico, in questi sughi già fatti Sanno di gorgonzola Per non dire altro, nei piedi puzzolenti Perché il formaggio pecorino Non è un insulto, ma il gorgonzola anche, non mi piace il pecorino neanche Poche volte l'ho mangiato il pecorino Il gorgonzola non mi è mai piaciuto Comunque, questi formaggi Non è un insulto, ma Hanno un odore forte E come I piedi tenuti tanto nelle scarpe Insomma, non è una cosa brutta È una cosa normale Che succede a tutti E il formaggio, avendo un odore forte Sembra un po' quello che ho detto prima Non mi criticate Perché tanto lo pensano tutti E se non tutti lo dicono Io lo dico Quello che penso lo dico Il pecorino ha proprio un odore forte Strong Bello 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 forte, insomma Non è male Pensavo non mi piacesse Magari proverò a fare anch'io il suggo cacio e pepe in casa Invece di comprarlo Ecco, adesso è arrivato il pepe Un pezzo di pasta Col pepe Allo resto della pasta Non sapeva di pepe Questo qui Adesso c'è un po' di Pepe in gola, insomma Beh, però non è piccante Non è troppo forte Quindi va bene E le cose troppo piccanti Non mi piacciono Allora, questo sugo qui Comprato Non lo comprerò mai più Uno per Ah, il piede Uno per risparmiare E due per Non comprare cose già fatte d'altre E se mi piace questo sugo Lo faccio io in casa Voglio imparare a farlo Diciamo che non è il mio sugo preferito Per la pasta Però Era una novità Volevo provarlo da anni Volevo Fare la pasta cacio e pepe in casa Ma non avendola mai assaggiata Non sapevo come sarebbe venuta E quindi ho detto Prima La assaggiamo il sugo Se mi piace La faccio in casa Il sugo lo faccio in casa Come la rucola Io sono viziata Dalla vincoletta Magari per qualcuno di voi Appena dirò questa cosa Mi critiqueranno tutti Spero di no Però la rucola La mangio Solo nel pesto Perché in insalata Preferisco la valeriana Che fa anche dormire Dicono Nelle lisane Però la rucola in insalata È amara Se c'è solo quello La mangio anche Però Preferisco altre cose Altri tipi di insalata Se devo scegliere Ma non è essere viziato Ognuno ha i suoi gusti Quindi Ognuno mangia quello che vuole Insomma non è essere viziato Quello che ho detto Però Anche lì Noto delle differenze Nel senso Quando ero piccola La rucola Non volevo neanche vedere In cartolina Neanche comprarla Per carità E adesso Faccio Sacchetti e sacchetti E sacchetti di rucola Per fare il pesto Appunto per la pasta E la rucola Nella pasta La mangio Nel pesto Ovviamente Come pesto Quindi Dei gustibus Nella vita si cambiano Si cambiano i gusti Questa non è male È già diventata La farida perché io parlo Invece di mangiare Però Non è male Pensavo sapesse Eh sa anche di panna Sì sicuramente Perché c'è la panna Però sa tanto di formaggio Provatelo Questo suo Se non volete farlo in casa Se non l'avete mai provato È un po' piccantino Ma Ogni tanto si sente L'odore Il gusto di piccante Nel pepe E ogni tanto Non si sente Va bene così Non ho criticato Niente nessuno Quindi Spero vi piaccia Questo video Perché Ho un po' paura Di quello che dico Che non va bene Quindi A Roma si mangia La caccia e pepe Io non sono di Roma Però Comunque I romani Mangiano la caccia e pepe Però forse Anche gli spaghetti Caccia e pepe Invece io ho i tortiglioni Oggi in casa Quindi vabbè Non va bene neanche Il piatto di pasta Secondo me Per questo sugo Comunque lo voglio fare in casa Non tutti i giorni Ma magari ogni tanto Voglio provare io A farlo in casa Appunto una volta Lo farò in casa Una volta lo faccio io in casa Farò magari anche la ricetta Se volete E poi Non tutti i giorni Questo sugo da fare Assolutamente no Però comunque Una volta ogni tanto Per non comprarlo già fatto Lo faccio io in casa Come anche il pesto di rucola Non è che lo faccio tutti i giorni Lo mangio tutti i giorni No Lo faccio poi lo congelo E ogni tanto Lo tiro fuori e mangiamo E si mangia la pasta Col pesto di rucola E anche questo sugo qui È da mangiare Ogni tanto lo voglio fare io E mangiarlo C'erano anche altri sughi Così Della Biffi Però In offerta al Carrefour Forse un mese fa Però il pesto Lo faccio in casa Alla Genovese Lo faccio in casa Compro il basilico Lo faccio in casa Una piantina di basilico Lo faccio in casa Adesso la devo Anche ricomprare Appena finisce l'inverno Ricomprerò il basilico Poi c'era il ragù Alla bolognese C'era il sugo al radicchio Anche il radicchio speck Quello della tiguglio Ma non mi piace Nel radicchio Nel quel sugo lì Nella tiguglio Non mi piace I pesti Nella tiguglio Non mi piacciono Ne ho già provati tutti Non me ne piace uno E ve l'ho anche già detto Forse anni fa Quando li compravo Ma adesso preferisco Quello che riesco Farlo in casa Preferisco Questa era una novità Vorrei anche provare Il sugo Quello lì Al tartufo Voglio vedere Se mi piace Perché anche lì Il tartufo Io non l'ho mai mangiato Il profumo Non mi fa impazzire Ma Vabbè Però Non l'ho mai mangiato Né bianco Né nero E quindi Voglio provare Se il sugo Per la pasta Mi piace Al tartufo Lo compro E farò magari un video Se mi interessa Volevo anche provare Prima di farli I cannelloni Che è un'altra cosa Che non ho mai mangiato Prima di provare A farli io in casa Se mi piacciono Come questa pasta qui Devo provare Comprarli E vedere se mi piacciono O andare da qualcuno Che li fa E vedere se mi piacciono Fatti in casa Sicuramente meglio I cannelloni Fatti in casa Come le lasagne Fatte in casa Rispetto alle lasagne I cannelloni comprati Quello è sicuro Però Come ho fatto Con questa pasta qui Prima assaggio il sugo Se mi piace E poi faccio Le cose in casa Io Invece di comprarle Spero abbiate capito Quello che volevo dire Adesso vi saluto Video lunghissimo Comunque È chiara La pasta Forse è tipo Di pasta sbagliato Comunque Bianca Con dei pezzettini piccoli Di pepe E va bene così Non è troppo piccante Per me Quindi va bene Ve la consiglio Ve lo consiglio Come sugo Se lo fate in casa Ancora meglio A presto ragazzi E va bene così